Semak Company, che è il presidente della società Semak, egiziana, naturalmente. Che idea si è fatto della nostra bisogna? Che idea si è fatto della nostra società? Penso che sia una buona società, ma non ha la capacità in questo momento per la situazione attuale. E spera che ci possano essere dei cambiamenti relativamente a questa capacità che attualmente ha la società per produrre il prodotto che stiamo cercando di concludere. In certe circostanze c'è apparsa di vedere la sua fiducia venire a lei. No, non è assolutamente così, ma solo perché conosce la situazione di questa compagnia. in cui inverte ora lo stabilimento, quindi un po' di preoccupazione riguardo ciò, ma non è assolutamente perplesso e la sua fiducia non è tenuta a meno. Ok, e questa compagnia va a Skoda, ok? Per fare qualche relazione con loro, ok? E sa benissimo che questa società farà parte del gruppo Skoda per questo tipo di attività. Quindi per avere un contratto con la loro società alla Senato. e fino adesso ci sono stati dei problemi tra Keller e Skoda per arrivare a questo contratto. e spero che sia finito. Ma si dovrebbero risolvere a breve, quindi spero che si concluda tutto al più presto. Cosa ti serve? Come numero? Quante carrozze volente voglio mai servire? Quante carrozze ho bisogno di manufatturare per mese? Da Keller? Sì. Da Keller penso che sia circa 12. Quindi da parte di Keller circa 12 per mese. Ma con questa capacità è un po' arbo, a meno che non si faccia nulla. C'è un programma di investimenti. Abbiamo bisogno di molti investimenti. E quindi nuove assunzioni. Quindi spingono le nuove assunzioni. No. Investimenti quindi. Allora per avere questa capacità ci servono degli investimenti a livello di macchinari e anche a livello di personale, di tecnici. E allora parli di conversi e quanti dipendenti hai? Quanti lavoratori hai? 1.400. 1.400 lavoratori. Uno stabilimento. Un plant? Un factory? Un plant. Uno stabilimento. Un factory? D'ecchia. E' la prima volta che hai creato un città di una società di questa? È la prima volta che hai creato un città di una società di un città di italiano? Si. E' la prima volta che hai creato una società di una società di italiana. Che notizie erano giunte in Egitto o da Keller? Qualche notizie avete sull'Egipto? Penso che la stessa notizia che avete già ascoltato. Se dovete dare un voto su questa visita, siete soddisfatti? O se c'è qualcosa? Dopo che faccio un incontro, credo che possiamo... Ora l'incontro deve ancora concludere, però spero di poter andare...